Si comincia a ragionare Dio Bella ragazzi Siamo tornati qui con un nuovo video Ancora oggi, finalmente Un pack opening, l'avete chiesto? Noi, come sempre, come sapete, collaboriamo con questo sito Che è UticoinBets E che ci permette di fare dei pack opening Su questo sito, dove si possono fare anche Le scommesse con i crediti Poi praticamente che succede? Shoppate i crediti come sempre, come pad sempre Potete piazzare scommesse con i crediti che avete shoppato O anche potete spacchettare su questo sito Aprite i pacchetti E se trovate un pacchetto a 100k Trovate il giocatore del valore da 300k E avete guadagnato 200k Perciò poi ve li potete spostare sul conto Oppure semplicemente shoppate i crediti E ve li passate sul conto Senza aprir i pacchetti, senza far scommesse Senza fa niente Ci stanno pure i mini giochi Tipo carta più alta o carta più bassa Con i bronzini, con i silberini e con i goldoni I goldoni Anche il benissimo Pietro Vabbè Perché lo sta studiando a squadra Comunque abbiamo nel nostro Ma sai che è un morto Umberto? 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 Sì Sì, sì, lo so Comunque oggi siamo ad aprire i pacchetti dell'Xbox Anche se non abbiamo un costo Xbox Un account Xbox Perciò li passeremo a un pass Sì Sì, infatti perché dobbiamo ricaricare Noi compriamo direttamente 8 Che abbiamo 899.450 Quindi cerchiamo di guadagnare Vuoi avere dell'onore? Dai, ho io l'onore, dai Primo pacchetto, dai Dai Oh Oh Non c'è in grabba che chi è? Chi è? Johnson Il valore di 33.000 Ma che merda Eh, attenzione Oh, 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 oh È lui È lui il grandissimo Remizuma Remizuma Ah, attenzione Un altro pacchetto Eccoli Wave OS X Ride E Slima Slima Ah, perché fai ride Madonna mia E poi C'è Feli Ani che ne entra neanche dentro la carta No, infatti Eh, io voglio raggiungere i livelli suoi capelli Poi c'è il Cvvoting che sembra che c'ha qualcosa nel culo Perché guarda quanto sta ticato Noi scherziamo e ridiamo Ma non abbiamo ancora trovato un cazzo No, vabbè Ma attenzione Non c'è pensato Non c'è pensato Lui sicuramente sarà uno che farà Il cazzo Bradley Fa il nome, no? Che merda, regà Questo è stranzol È proprio uno stranzol Che mani Che mani Che mani Che mani Che mani Vai, vai Intenzione, vai Questo è buono Sì, due Due uguali Sono i stessi? No, sempre lui Slimani Ah, perché sì Faith Mi ho trovato Vabbè E lui Eccolo Di Maria 24 Cioè, io mi sono dovuto spaventare Guarda Di Maria E me vanno solo 24 Comunque Di Maria è jumpscare, regà Cioè Sì, è vero Cioè Manca l'ordine della musica Cioè, tipo gli horror, regà Faccio Di Maria Rosa, ma guarda Per me Per me, Guia, te gioca Chi ride primo con Marotta Oh, incredibile Giorginio E Johnson Johnson Pepinoli Poi c'è il Negredo Che c'è una scucchia Che gli arriva quasi sotto il nome Certo, comunque Negredo è bianco Rose è nero E' prese per culo Titolo, è morto Dai, ti prego Ti prego Oh, dai Oh, oh, oh 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 Eh, bono, 137 mila Vai così Vai così Vai così Vai così Andanovic 115 mila Si comincia a ragionare Dammi il 5 Eh, sai, 10 così però Dammi il 5 e poi l'altro 5 E 15 Che cosa stai facendo? Basta Tipo quelli che sono pacciati Ah, sì che fa Eh, eh Aspetta, com'era il trucco Eh, c'è tua Il trucco per fa Per Ti ride Ti ride, ti ride Ma tocco 2 Ma non lo so C'è il vero All'altra, all'altra testa Eee Com'era il trucco per Com'era il 5 Guarda Il pulso Guarda il gomito Guarda il gomito Oh, arredi Guarda il gomito Speri ballo Come se tagliamo Vai, vai L'ho ancora Fino a che non sbagliamo Assoluto, famo il giochino Quello così Scusa Mongoi Vabbè All'avanti Vabbè Quintanovic 115.000 Aprilo Aprilo Oddio 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 Benzema Oddio 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 Che è l'unico del Liverpool Probabilmente che vale così poco If è lui Sì Comunque va bene 210.000 di pacchetto Sif Benzema Addirittura Addirittura Edzioni Vai 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 questa è buona Questa è una merda Oddio Modric Modric No questa è una merda Ho visto Croacia C'era solo un croato che valeva così tanto No Non vale così tanto Ho capito però C'era solo un croato che valeva così tanto Era Modric Abbiamo 700 Abbiamo gli ultimi 7 Come vanno vanno 7 per esempio il finocchio Attenzione Italiano Italiano del solino Lui È bobo Si è lui Nessuno pensava a bobo No Fatti Io pensava immobile Che ne so Eh però è lui È lui Grandissimo Bobo È una merda Queste che hanno Queste che hanno Oddio Che è la leggenda Oddio Ma vale un cazzo Hai accuto meglio per dito Ma non vale un cazzo Ma non è possibile Vabbè Ma fa uller Che cazzo è Io non lo conosco Io che De carcio comunque Oh guarda questo è Lewandowski Da 30 anni Mi conosco tantissimo A Fowler Non ho mai sentito Vabbè comunque Dei 111.000 De la cazzo Sì vabbè Però c'è Vi dà la leggenda 196.000 Modric ancora no No Griezmann Griezmann Dai E dai Griezmann Morata Attenzione Attenzione È lui Oh E dai E Starling È Starling 223.000 Eh dai Attenzione Ultimo pacchetto 734.000 Dai che se questo ci dà 200.000 Abbiamo guadagnato Dai Però Vabbè rega Io te buscio Allora ragazzi Se vi è piaciuto questo pacchetto Abbiamo trovato anche Una leggenda In questo cazzo Di pacchetto Soltanto che Facevo a cagare Però Capita Fa niente Se per questo video Mi è piaciuto Lasciamo 5.000 like Per un prossimo Pacchopening Ci becchiamo alla prossima Ciao Ciao Ci becchiamo alla prossima Ci becchiamo alla prossima